Il campo basso Soul Beat Festival torna sul palco del Blue Note di Ripa Limosani. La rassegna internazionale promossa dall'associazione Via Nova ha l'obiettivo di risvegliare il capoluogo da un letargo culturale durato troppo a lungo. Intanto il direttore artistico Massimo Petrarca traccia un primo bilancio del festival. Abbiamo spiegato sul palco una formazione straordinaria. Il trio valore con Steve White e Damon Minchella, batteria e basso degli Style Council. Ma poi la serata è stata anche piacevole perché ai tavoli la gente si è divertita gustando tra le altre cose degli ottimi vini e le ottime pietanze preparate dalla molisana. Per il secondo appuntamento del campo basso Soul Beat Festival sbarcherà in città il DJ austriaco Richard Dorfmeister. Guru della musica elettronica sulla scena da oltre 20 anni. Una star internazionale del DJing suona sulle console dei migliori locali un po' in tutto il mondo. E' comunque un DJ particolare nel senso che alla fine lo si può anche definire un musicista in quanto ha prodotto centinaia e centinaia di brani in coppia con il suo alter ego che è Cruder, Peter Cruder. E con altre formazioni di cui lui fa parte tipo Co, Tosca, Madrid de los Austrias ed altre. E con questa data veramente ci mettiamo al pari della programmazione dei migliori club un po' di tutto il mondo. Riportare in Molise grandi artisti e musica di qualità è l'obiettivo del campo basso Soul Beat Festival che unisce divertimento e cultura strizzando l'occhio ad un pubblico giovane. Gli ospiti sono tutti di caratura internazionale oltre che tutti stranieri. Li stiamo portando sul palco del Brunote poi che a mio avviso oltre ad essere un locale storico del Molise eppure il palcoscenico giusto. E quindi secondo me stiamo facendo un bellissimo regalo alla nostra città e a tutta la regione nell'organizzare questa cosa. Una sola cosa ci devo precisare, anzi più che a precisare, a dire che mi farebbe molto molto piacere se potessimo coinvolgere un pubblico giovanile anche in maniera tale da fargli sentire un po' di buona musica e fare in maniera tale che possano capire che il divertimento anche con un DJ o con dei gruppi musicali può tranquillamente coniugarsi con la cultura. Grazie!